Pizza Time fa tappa a forneria semplice di Frosinone. Galia Scialtica proporrà la pizza amatriciana. Iniziamo a stendere questo panetto che è stato preparato con una farina di che tipologia? Una farina 00. Quante ore di lievitazione ha questo impasto Galia? È un impasto di 72 ore di lievitazione, 80% di idratazione. Adesso possiamo passare la pizza sulla pala perché inizieremo a condirla con un sugo di pomodoro e cipolla già cotto. Quindi possiamo condirla con questo sugo cotto fatto con passata di pomodoro, olio, sale e cipolla. Continuiamo con che cosa Galia? Continuiamo con la mozzarella. Quindi mozzarella. Ovviamente in questo tipo di pizza non può mancare il pecorino. e un altro ingrediente fondamentale che deve essersi ovviamente è il guanciale che tu proponi a fette piuttosto grosse perché poi nella cottura si ritira. La pizza è cotta Galia. Buona pizza matriciana a tutti!